Ciao amici, eccole, sono arrivate fresche fresche di consegna appena sistemate le meravigliose tisane dell'avvento. Un calendario con 24 bustine di tè, tutte diverse, in una bellissima scatolina che fa anche da dispenser, da espositore, quindi bellissimo da tenere anche per decorarla a casa, con 24 bustine tutte numerate, con tè e tisane tutte diverse, per assaporare ogni giorno una tisana e aspettare il Natale. Una bellissima idea per voi, per chi ama questo periodo, e una bellissima idea anche come idea a regalo per i pensierini, per i vostri amici, per i vostri colleghi. Prenotatele perché sono arrivate in numero limitato, l'anno scorso le abbiamo terminate velocissime, quindi scriveteci o commentate il post oppure mandateci un messaggio su whatsapp, abbiamo segnato il numero nel post. Sono veramente bellissime, deliziose le tisane, non rimanete senza, se vi piacciono scriveteci e prenotatele.